E' da una nota ufficiale della proprietà che arriva forse la notizia che tanti aretini aspettavano per quel brutto biglietto da visita che si chiama Area Ex Lebole. Il lungo ed accidentato percorso amministrativo del piano di recupero Ex Lebole ha reso difficili i nostri rapporti con i potenziali investitori, leggiamo nella nota di Marco Carrara, e ha rischiato di compromettere la concreta realizzazione poiché il progetto iniziale non era ormai più adeguato alle mutate esigenze e ai mutati assetti organizzativi del settore della grande distribuzione. La programmata riqualificazione poteva quindi ormai realmente attuarsi solo introducendo funzioni e dimensioni più coerenti con le esigenze del mercato. Con questo intento la nostra società nel 2018 ha sottoposto all'amministrazione una proposta di variante che dopo un sereno e costruttivo confronto è stata istruita dal Comune con professionalità ed è stata approvata in tempi ragionevolmente rapidi, così consentendoci di avviare o perfezionare laddove già avviate serie trattative con gli imprenditori interessati ad una parte dell'insediamento. Siamo quindi oggi in grado di comunicare ai cittadini di Arezzo che quanto prima, nel rispetto dei tempi tecnici richiesti per la sottoscrizione della Convenzione e per il ritiro dei permessi di costruire, che daremo inizio ai lavori di realizzazione del complesso immobiliare con funzioni commerciali, direzionali e servizi alla persona e alle correlate opere di urbanizzazione e viarie che ne garantiranno il corretto e proficuo inserimento nel tessuto urbano. Qualora se ne creassero le condizioni consci della difficoltà che ha attraversato e attraverso il settore dell'edilizia intendiamo privilegiare l'imprenditoria toscana.